Allora eccoci qui, buonasera e benvenute in diretta da Martina e la Giussi di www.mokimaggi.it Oggi è giovedì 13 ottobre 2022 e sono all'incirca le ore 20 perché siamo in chiusura, voi sicuramente starete cenando, è vero? Forse le signore del nord hanno già finito, ma quelle del sud saranno a cucinare, giusto Giussi? Sì, giusto. Allora ci troviamo qui in diretta perché ve volevamo fare, vede una cosa, ve volevamo rendere partecipi del fatto che è arrivata Merceria Neri, Merceria Neri è una ditta leader nel settore con la quale noi collaboriamo per prenderci delle cose ad hoc. Ciao Piera, ecco Marzia Paglia, Marzia Paglia avete già cenato? Se state cenando vi facciamo buon appetito. Federica, ecco Isaura, Isaura che sta facendo mangiare Emma. La piccola Emma. Buonasera a Luciana Papagnoli, ecco pure Demi Debbie, vi sempre siete simpaticissime, grazie Demi, un bacio grande da me e la piccola Susina. Ecco qua. Franco Santini, ciao, buonasera e ben arrivato. Ecco Roby Bay, io ho già finito da circa 30 minuti, profondo nord, sette ville nord. Alessandra Bresolin, ciao, buonasera e benvenuta anche a Franca Pedda al lago di Iseo. Ecco che è arrivata pure Paola Serafini dal profondo sud di Sette Camini. Serafini, Sette Camini tra l'altro fa pure rima. Ok, benvenuta a tutte. Alice dice, tra poco è Natale a Lucca. Sono arrivata a Natale. Ecco Rosanna Lenza, Francesca Arcangeli, buonasera ragazze e benvenute. Allora adesso vi faccio vedere quella che tante di voi stavano aspettando. Adesso è arrivata e vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Grazie Maria, la Salvia. Uh, la Salvia, fate cognome, è carino il cognome tuo, la Salvia, è carino eh? Mi faccio due neocchetti burro e la Salvia. Che carino. Ciao Ele, ciao Paola Tortorella e ciao Melissa, buonasera e benvenute carissimissime. Allora, andiamo a vedere che cosa sto parlando. Andiamo a vedere. Lo puoi anche lasciare così, secondo me, la Giussi. Lasciamolo così. Mi serve un taglierino che prontamente la Giussi ha messo sul tavolone e saluto anche Ilaria. Marzia Cerenar dopo la partita, che giochi Italia. Che sei in campo, Marzia. Sei in campo? No, la Lazio. Eh, ieri c'è stata in Napoli. Ciao Maria, ciao Mimma e ciao Daniela. No, ieri c'è stata in Napoli, ieri c'è stata a Sciarelli. Sì, l'altro è ieri in Napoli. L'altro è ieri in Napoli. Ieri vinter. Mi piace le tue dirette, dice, lo preferite tantissimo, eseguo, eseguo diversi incidenti tutte le sere. Un abbraccio e buona serata. Alice, ma stai guidando? Che cos'è questo messaggio? Non ho capito. Intanto salutiamo Daniela Costa, Pistolato Mara e Sara Ciantò. Ecco pure arrivata Francesca Ragazzi. Ciao a tutte quante. Vi faccio vedere di che cosa sto parlando. La conosciamo tutti quanti. Mo va, faccio vedere perché finalmente è tornata. Mancava da dopo fiera, ok? Eccoci qua. Io comunque chiedo sempre grazie, dico sempre grazie a quella ragazza che mi ha insegnato ad aprire i pacchi. Ragazze, è tornata l'imbottitura Basic Fill American Boy. Ecco qua, ecco qua. Giussi mi fa dei cegni un po' particolari per dirci a tutte quante che la Basic Fill oggi sta 8 euro, ragazze. Questa è l'imbottitura americana da 500 grammi e sta 8 euro. 100% fibra di poliestere, soffice, duratura nel tempo e ipoallergenica. Ecco qua, ce fate tutto quello che vi pare. Allora, rispetto a... se la vogliamo paragonare, che tante di voi già la conoscono, chi non la conosce, io lo dico. Se la vogliamo paragonare all'imbottitura effetto nuvola che vendiamo regolarmente, che sarebbe... chi sta? Chi sta qua? Questo è proprio effetto nuvola. Allora, voi calcolate che io in cera ho aperto un pacco, ho aperto un pacco di imbottitura effetto nuvola e con un pennarello indelebile sopra la busta, c'ho scritto, se sei stressato, infila la mano. Perché in effetti dà proprio relax, ok? Ad antistress. È una cosa bellissima, artatto. Però questa, ragazze, ci serve per imbottire o progetti più grandi o progetti più grandi. Cioè, nel senso, questa qua frutta il doppio di quella là, ok? Frutta il doppio. Io credo che siano, sono tutte basic fill rosse? Sì. Tutte basic fill rosse, però apriamo per fare la controprova. Ok. Basic fill rossa, basic fill rossa, imbottitura americana. Imbottitura americana. Americana perché viene proprio dall'America. Mo non mi ricordo il paese. Comunque c'è niente da fare, raga. Americani stanno sempre dieci passi avanti a noi. E poi, tra l'altro, è un popolo giovane rispetto all'Italia, no? È giù? Sì. È nato da poco. E tra Eleonora dice sì, a me piace tantissimo questa. Eh, però, rispetto, dimmi se non dico una cavola, rispetto all'effetto nuvola è un po' più ispida. Però è proprio quel fattore lì che c'è da più... che c'è da più... se siamo capiti, no? Insomma, con questa ne mettete di meno, imbotticete più. Ecco. Ecco qua. La rossa, la rossa, la rossa. Ci stanno ancora rosse dentro. Io avrei l'ultimo per vedere se sono sbagliate perché, allora, chi lo sa, lo sa. Chi non lo sa, lo dico, le imbottiture americane sono due. La rossa e la blu. La rossa è quella che io preferisco. La blu, invece, è quella che chiamano effetto puzzle. Ok? Perché? Perché, allora, io la rossa la preferisco, però in realtà la blu ne occorre di meno. Cioè, io devo imbottire un animaletto così. Ok? Effetto nuvola mi ce vorrà 5 grammi. Americana rossa ce vorrà 3 grammi. Americana blu ce vorrà 2 grammi. Cioè, per farvi capire che l'americana blu imbottisce di più. Però a me, personalmente, non piace al tatto. Al tatto, non mi piace. Eh? Cioè, frutta di più, ma non la preferisco. Come vi posso dire? A me piace la rossa. Cioè, no, a me mi piace a imbottitura nuvola. Però se devo fare cose grosse, preferisco la rossa. Poi sempre, cioè, nel senso, per fare cose grosse grosse, nel senso, io metto sempre un'anima, no? Adesso, tipo, l'ognomone che ho fatto, oppure lo schiaccianoci quelli grossi, metto un'anima che può essere tipo, eh, una pallina rivestita con, eh, giornali, alluminio. Insomma, non metto tutta imbottitura. Sennò quanto spendo per fare sto, sto lavoro? Ecco. Carmen dice, io preferisco la blu. Vedi? Invece Eleonora dice, hai ragione, è più ispira, ma per i pezzi grossi va benissimo. La rossa. Ciao Federica. Ok, confermato ragazzi, ci avevamo tre pacconi della rossa. Ecco qua. Quindi, se siamo armate, se siamo armate per Natale, io penso che con questo stiamo bene. Sono tre pacchini, tiro fuori tutti. Gigante di imbottitura americana, la rossa. Benissimo. Ecco qua. Vedete? Se vede? Sì. Ok. Ok. Mo che vi ho fatta vedere, vi ho spiegato un pochetto, vengo a chiacchierare. Luciana dice, ma perché si vede la scritta al contrario? Giuro, non ho bevuto. Perché stiamo facendo con la fotocamera interna. Avevamo iniziato così e siamo rimaste così. E fa a specchio. Sguscia via, sguscia via, sguscia via. La rossa sguscia via, ma dove vai? Se la rossa non ce l'hai. Elisabetta di Aparotta, ciao. Rosario Russo, consigli sempre al top, grazie. Cioè io non cerco di consigliare, io giusto, no? Ciao Imma Corsini, ciao Milandra, ecco Rosita. Non mi è arrivata nessuna notifica, ma com'è possibile? Luciana, hai cenato? Ecco l'onora che saluta Rosita. Ho finito il cambio di stagione. Carmen ha iniziato stamattina, ragazzi. Voi dovete sapere che oggi è stata una giornata veramente bella. Stamattina ci è venuta a trovare Daniela Antonecci, la nostra segretaria online, e ha fatto, ecco Luisella, un bacio, Tania, un bacio, e ha fatto, Veronica, ciao, ciao a tutte, ciao a tutte, ciao a tutte, e ha fatto una videochiamata a Carmen. A Carmen! Cioè mi sono emozionata, non era mai successo che ce l'avevo tutte e due in contemporanea davanti a me, eh? E quindi ce l'avevo tutte e due le segretarie davanti a me. Ecco, e quindi sono stata contenta. Poi, a parte tutte voi che ci siete l'uno a trovare oggi è un liggio e sono stata contenta, ma c'è venuta a trovare pure Katia da Bracciano. Ho messo le storie, andatevela a vedere, ci ha portato i biscottini di Halloween, ho messo paura a tanti bambini, tranne che a Federica. Federica, la figlia di Anna, coraggiosa, se l'è mangiato subito. Katia mia, per farlo via a mano a Elena, ma che totica fa, e dite da strega. Dite da strega, volete vedere? Mo' vi faccio vedere. Questo è quello che rimane. Quello che rimane, dite da strega. Capisce? Cioè, ragà, da Ardivo fanno... fanno... fanno impressione. Ciao Elena Cegna. Per caso ci sono sfere plexiglass da 10 centimetri? Con separatore. Con separatore. Stanno arrivando a brevissimo. Stanno arrivando a brevissimo, quindi guardi che ci vediamo per uno spacchettamento a brevissimo. Ecco Luciana che dice Katia è bravissima perché ha potuto provare le sue prelibatezze. Guarda Rosaria, gli fanno impressione. Troppo. Sì, sì, buoni. Sono tipo i cookies, quelli americani, quelli al burro. Buonissimi. Va bene, ragazzi. Allora, è arrivata l'imbottitura americana. Noi con questo... Ehi, ciao Federica Bubbabacci. Oh, Federica, ma quanto sono rimasta male che tu non sei venuta in fiera? Io aspettavo il sugo che vongole. Sono rimasta troppo male quando ho realizzato che tu non sei passata? Passata, insomma, dovevi via pure i mezzi. Mi capisco che era un viaggio. Annalisa, ciao. È vero Elisabè? Eh sì, sì, sono buona, sono buona. Gloria, ciao. Non riesco a mangiarli, mi fanno impressione. Marilena. Federica, vabbè, dai, sì, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, però ci sono rimasta male perché io ero contenta di conoscere. Te leggo sempre, mi pare io e te volevo conoscere, capito? Ero contenta di conoscere. Vabbè, dai, comunque ci sarà occasione, sicuramente, dai. Ma una maniera o nell'altra sto su come lo devi fare. Ogni promessa devi do. Scherzo, eh, figurate. Allora, ragazze, grazie a tutte. Un bacio grande. va bene. Scusate, stavo a leggere Federica. Ragazzi, un bacio grande, grazie per essere state con noi. È arrivata l'imbottitura americana. Buona serata e buon appetito da Martina e Giusina di www.magimaggi.it. Ciao a tutte. Ciao. Ciao, ciao.